Siamo sposati da 55 anni. Ci sono stati momenti di grande gioia, ma anche periodi di difficoltà, di frustrazione e di lacrime. Ma lo sa, ci amiamo ancora moltissimo, siamo ancora molto innamorati. È un mistero grandissimo e bellissimo. Credo che dietro tutto questo vi sia spesso la decisione di amare comunque, molta volontà di perdonare e saper sempre vedere il positivo dell'altra persona. Sono un medico e insegno agli studenti. Quando uno di loro mi ha chiesto il segreto del matrimonio, ho risposto che le statistiche dicono sia pregare insieme. So che sembra molto strano, ma la preghiera è fondamentale. E l'altro ingrediente che indicherei è il sesso. Dobbiamo riconoscere che il sacramento del matrimonio è un sacramento sessuale, in cui esprimiamo pienamente la nostra spiritualità nel sesso, che quindi fa parte del grande dono di Dio per noi. Ecco perché ritengo faccia parte di questo segreto.